Si chiamano Rossi, Chen e Zhang, i nuovi imprenditori che hanno avviato un'attività nella regione tra gennaio e settembre 2015. Se l'italianissimo Rossi resta il cognome più diffuso, subito dopo vengono i cinesi Chen e Zhang. In particolare sono stati 31 i signori Rossi che nei primi 8 mesi del 2015 hanno deciso di avviare un'attività imprenditoriale nelle Marche, mentre i Chen sono stati i 16 e gli Zhang 15. La statistica è stata fatta da CNA e Confartigianato Marche, sulla base di un'elaborazione all'ufficio studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza sui dati e registro imprese. Esaminando i cognomi che ricorrono nelle prime 10 posizioni dei neoimprenditori che si sono iscritti nel 2015 all'albo delle imprese, spiegano i segretari regionali Confartigianato Giorgio Cipitelli e di CNA Marche Otello Gregorini, sette sono di origine cinese e solo tre italiani. Oltre ai rossi ci sono al quarto e al quinto posto 13 mancini e 12 ferretti, fino ad arrivare agli otto imprenditori indiani chiamati Singh al diciannovesimo posto tra i cognomi più diffusi. Non è solo una curiosità, sono dati indicativi di un sistema imprenditoriale che cambia, con gli imprenditori stranieri che occupano sempre più spazio, avviando nuove attività ed assumendo anche dipendenti locali. Per CNA e CGA c'è una nuova realtà con cui fare conti. Occorre valorizzare questo patrimonio assicurando a tutti i nuovi imprenditori stranieri un contesto territoriale favorevole in termini di burocrazia, di servizi e di infrastrutture efficienti, garantendo al tempo stesso il rispetto delle regole da parte di tutti in materia di lavoro, anticontraffazione e fiscalità. Vanno infatti contrastate con forza le attività abusive e straniere di lavoro nero, soprattutto in certi settori e la moda e del commercio. Nelle marche gli imprenditori stranieri sono 14.954, pari al 9% del totale.